La 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 io vengo dalla signora a comprare libri ecco di qua buonasera signora perché voglio usare i libri? eh questi bambini di oggi sono bichini signora vogliono sempre comprare cose però lei capisce? si può capirli signora? si perché capisci? perché capisco come sempre ah e tu ce l'hai il bambino? si il coniglio il coniglio quello con orecchie lunghe? si ma sono un po' piccole ah ecco senti ma e lui li legge? si ah e io voglio guardare solo le figure ce l'hai dei libri con le figure? si allora mi serve un libro di Pinocchio per Topolino e un libro per Mini De Bu Pinocchio è là va bene allora un altro libro andiamo a cercare un altro libro quale volete? eh voglio vedere signora mi dia un libro un libro giallo per questo bambino che è tutto giallo si ce l'hai un libro giallo? si con tutte storie gialle ecco fatto un libro giallo quindi signora ma lei ci mette tanto tempo io voglio un libro mi dia un libro questo libro giallo ecco questo va benissimo va bene un libro di Topolini va bene va bene adesso vorrei alcun libro rosso ce l'ha un libro rosso? si il libro con tante figure da colorare ah ce l'ha signora? si non sai diretta no questo qua bene 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 ok bene grazie signora i bambini quanto costa? eh 4 euro 4 euro? si un attimo che prendi i soldi ecco qui ecco questi sono 5 euro ecco qui mi da lo scontrino per favore il resto e voglio il resto eh quale? faccia lo scontrino per favore il resto 5 euro meno 4 quanto fa? 5 5 meno 4 quanto fa? eh 7 va bene mi dia 7 euro 7 euro grazie oggi oggi ci abbiamo guadagnato va ladro ciao signora rivederci ciao buonasera